un tipo apre un locale notturno tutte le sere ci sono spettacoli una sera arriva un cliente che è un suo amico ah ciao non sapevo che eri qua eh sì sì sono venuto a vedere dai vieni che ti presento le ragazze ma no non mi sembra il caso dai dai vieni allora lei è sonia bellissima mediterranea calda mora scura ti piace eh sì è bellissima lei invece è samanta viene dall'est bionda alta carnagione chiara capelli lunghi bella è bellissima non c'è che dire infine lei è carlotta ha 83 anni ma scusa una di 83 anni fa lo spettacolo senza offesa ma rispetto alle altre non mi sembra tutto sto granché ecco bravissimo prima entrano samanta e sonia quando poi è ora di chiudere che i clienti non vogliono andare via fa il suo spettacolo carlotta ciao ciao